Ciao, benvenuti a Yamaka Noise. In questo video ti presento uno strumento spettacolare che grazie alla sua tecnologia ti permetterà di aumentare le tue doti creative. Spesso noi chitarristi abbiamo bisogno di piccole chicche per far scattare quella scintilla chiamata creatività. Immagino ovunque tu vada di portarti dietro uno strumento che pur non collegandoli nessun amplificatore e nessun impianto ti permetta di suonare con due effetti, riverbero e chorus, usati singolarmente o simultaneamente. Lo strumento in questione è una FGTA entry level del modello transacustica, chitarra costruita con fascia e fondo in mogano, top in abete rosso massiccio, tastiera ponte in palissandro e manico in mogano. Suono potente ed equilibrato tra le corde basse e i cantini, infatti già posizionando i primi accordi avrai subito l'impressione di averla suonata da sempre. La chitarra è dotata di un preamplificatore chiamato Zero Impact System 70 che amplifica il suono grazie al piezzo posizionato sotto il ponticello e deciderai tu nei tuoi live se utilizzare o non utilizzare gli effetti a bordo. Adesso ti faccio sentire in strumming gli effetti di riverbero e chorus. Adesso lo stesso esempio senza effetti. Adesso vi faccio sentire la chitarra direttamente dal piezzo. Adesso aggiungo gli effetti di riverbero e chorus. Gli effetti di riverbero e chorus. Gli effetti di riverbero e chorus. Grazie. Grazie.